Buonasera a tutti, sono Diana Tomicek, attualmente mi trovo a Cracovia, centro di città Staremiasto. Allora, davanti a me sono attivisti, attivisti russi, che praticamente stanno qua contro la guerra con la Russia. Allora, ve la presento. Adesso le domando da dove provengono. Come vedete, sono qui tutti i cittadini russi che vivono in Polonia, ma stando contro la guerra. Allora, ecco, mi puoi dire perché sei contro la guerra, siete russi, le parla un po' italiano, ho sentito, no? Sì, un po' parlo italiano, sono russa, sono di Irkutsk e io sono contro la guerra in Ucraina. Sulla guerra in Ucraina. Ecco, io vorrei sapere, questa bandiera, vedo che senza color rosso, e questa bandiera è una bandiera inventata a voi? Perché di questo colore? E questa è la domanda che vi faccio. Noi non vogliamo venire con un'altra bandiera, perché, come vedete, non c'è il colore rosso. Il colore rosso simbolizza il colore del sangue. Noi non vogliamo sangue, noi vogliamo la pace. Ecco, come vedete, questi sono i cittadini russi, ripeto, che non vogliono la guerra contro la guerra. Per ora è tutto, per Eurocomunicazione. Tomic e Diana. Ciudamo ai cittadini russi, ripeto, che non vogliamo. Grazie a tutti